Ecco a voi! Torneo mondiale per l'incoronazione. Ma questi sono i biglietti per la finale! Fantastico! Vero? Perché? Oh no, vuoi dire che non hai idea di cosa sia! Fino ad ora ogni regione ha disputato delle gare con una propria lega o campionato. E ognuna aveva un campione. Ma al torneo mondiale per l'incoronazione viene scelto il migliore fra tutti gli allenatori del mondo. Fantastico, non c'è che dire! E questi sono i biglietti per la finale! Sarà uno spettacolo magnifico! Ma allora, questo significa che vedremo con i nostri occhi la lotta Pokémon più avvincente del mondo! Indovinato! Wow! Vida! Si svolgerà nella regione di Galar. In quello stadio accadranno cose che vi lasceranno a bocca aperta! Ecco, vorrei che ci andaste per imparare tutto quello che potete! Perfetto! La ringrazio, professore! Non vedo l'ora di partire! E io, mentre sarò lì, catturerò un sacco di Pokémon! Giusto! Mettiamoci in viaggio per la regione di Galar! Torneo mondiale per l'incoronazione! Arriviamo! Sì, vai! Non vedo l'ora di arrivare! Pikachu! Siamo nello spazio aereo della regione di Galar. Evviva! Allora manca poco! No, no! Che problema! Controlla l'impianto elettrico! Subito! Signori, rimanete ai vostri posti! Vi prego, state calmi e tenete allacciate le cinture! Che cosa sarà? C'è qualcosa là fuori! Eh? Ska? Io non vedo niente! Sta arrivando! Riesco a sentirlo! Pikachu! Che ti prende, Pikachu? Il sistema è irregolare! Che cosa può essere stato? Come andiamo, amico? Tutto bene? Vivo! Quello che ci è passato accanto, cosa poteva essere? Era sicuramente un Pokémon! Proprio come immaginavo, e di certo era molto potente! Viva! Non so tu, ma io sono ancora più entusiasta! Sì! Pensa a tutto questo grande mistero! Chi ci sta aspettando nella regione di Galar? Già! Chissà che bella avventura vivremo oggi, eh? A presto! Grazie.